Tutti in betta a cercare refrigerio, visto le punte di 35 gradi di temperatura e così la festa della montagna degli alpini di Varese al campo dei fiori è un grande successo. Sabato oltre 3.000 biglietti staccati davanti allo stadio per il bus che fa la scuola con la navetta per la vetta. Oggi domenica si vileggia sul 1.500 biglietti ma manca ancora l'ondata serale nel momento in cui vi parliamo. La giornata è stata costellata da un evento collaterale ma molto scenografico della festa della montagna e cioè la ventesima edizione della moto adunata alpina. Ben 400 i partecipanti, un record storico al punto che gli organizzatori hanno dovuto chiudere mezz'ora prima della partenza l'area di Piazza Repubblica. Da Piazza Repubblica le moto sono arrivate in cima al campo dei fiori in Grand Hotel dopo ben 64 chilometri percorsi per le strade della provincia di Varese. Grande soddisfazione degli organizzatori e molti applausi da parte dei cittadini che hanno visto passare le moto soprattutto nel momento del passaggio degli appini nel centro storico e in Piazza Montegrappa. Grazie. 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 Grazie.